Abbiamo un problema e abbiamo bisogno del vostro aiuto. E deve essere fermata. Quindi, ascoltate. Listen up. Listen up. Listen up. Listen up. Listen up. In Italia, quasi 7 milioni di donne hanno subito una forma di violenza, fisica o sessuale. Quasi il 63% degli stupri è commesso dal partner o da un ex partner. Sta a noi porre fine alla violenza contro le donne. I veri uomini non picchino le donne. Ma tutto inizia da te. Fai sentire la tua voce. Perché uno, un solo acto di violenza, è già troppo. Because one is too many. One is too many. One is too many. One is too many. Basta alla violenza contro le donne. Tutto il mondo del basket è unito per combattere la violenza sulle donne. Aiutaci a diffondere questo messaggio. Vi aspetto il 3 giugno in occasione delle finale regionale FIB. in piazza città di Lombardia per dire basta alla violenza sulle donne. Chiara verrà una violenza sulle donne. Forse non è solo un'attiva del basket. Testa fine di chiara è un'attiva del basket. Quindi noi devi adorare la violenza sulle donne. Grazie.